Oltre a tutte le nostre più rosee aspettative Non me l'aspettavo Ciao Luca, grazie Ci vediamo a Milano Grazie Adesso la città della città della città della città Adesso la città della città della città Adesso è finita Noi, dopo la città della città Noi, dopo la città della città La città della città della città Non mi riprende, guarda che brutta Adesso poi Si può dire La duzza Guarda che la so Guarda che la so La città della città della città La città della città La città della città Ciao a tutti Ciao 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 Con il camice che professionista Ciao 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 Sempre impeccabile Ciao 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 Torniamo! Dai, raccontateci come vi è piaciuta la cena. La cena? La cena. Bello, tutto bello. Cibo buono, posti belli, compagnia fantastica. Cosa volere di più? Cosa volere di più? Concordo. È stato oltre a tutte le nostre più rose aspettative. Esatto. Non me l'aspettavo, compreso un giorno di diretta. Diretta quella sarà indimenticabile. Più, non dimentichiamoci, il matrimonio. Esatto. Perché tutto è inizio col matrimonio, che è stata una, come dice Alessandro, non un'esperienza, ma... Un'esperienza. Sai che vi sono piaciute di più? Le tre? In ordine. La prima a Pechino, dove vivrei? Shanghai. Io la prima a Angiou, la seconda a Chongqing. E la terza... Pechino. Pechino con Shanghai. Piatto migliore, hot pot. La vince facile. L'hot pot la vince facile. È stato tutto stranissimo. Però bellissimo. Io non me l'aspettavo. Sì, cos'altro dire. Cos'altro dire. Rimaniamo qua, dai. Luca chiama il taxi. Torniamo in centaviglia. La parte due, adesso. Esatto. E poi torno con due braccialetti in più. La scimmia. Torneremo l'anno prossimo. Per l'anno del drago. Long Nien. Long Nien. Long Nien. Long Nien. Quindi, e vi lasciamo qui Lau Fu. Sì! Lau Fu e Xiaomi staranno qua. Dì, siamo inizialati a un po' di tempo qua. Siamo via il cellulare. Salutiamo la Cina. Cina. Grazie di tutto per averci accolto, grazie mille, siete stati tutti gentilissimi e quando volete siete benvenuti da noi, tutti a Milano, a Milano che è un paesello, sono quattro vostri palazzi. L'ultimo miglio, dai andiamo, dai andiamo, dai andiamo, mi tiri, provi a tirarmi, c'è qualcosa che lo blocca, c'è qualcosa che lo blocca Ale. Ciao Luca, grazie. Ci vediamo a Milano. Grazie. Ciao. 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 Ci vediamo. Passport? Passport. Grazie, veramente grazie, grazie. Porto? Sì sì sì. Scusatevi. Ciao belli, grazie, buon viaggio. Ciao. 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 Anxia me. Anxia. Ah, lenta. Allora, abbiamo. Abbiamo in questo video. Don't forget to like. Buongiorno. E poi, noi siamo in questo video. E poi, noi siamo in questo video. E poi, noi siamo in questo video. Ciao. Ciao.